Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In A1 si ricorda che fino alle ore 6 del 20 novembre rimarrà chiuso per lavori il tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Postiamoci sulla FIPILI dove si registrano possibili disagi in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto a Livorno Porto in uscita. Sulla statale Una Aurelia invece a causa di lavori scambi di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano in direzione nord e tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni. Scambio di carreggiata anche sulla statale Trebis Tiberina fino al 22 dicembre con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata in uscita in direzione Orte. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!